Do Vittorio, quest'anno ai Bani di Erdesio e le solenni celebrazioni iniziano già al 31 luglio. Sì, ecco, le celebrazioni in preparazione non solo alla festa patronale della Madonna della Cintura, che è la seconda domenica di agosto, ma anche nel ricordo dei 300 anni della Costituzione della Parrocchia. Domenica 31 luglio, alle ore 17, il ricordo dei 300 anni, ci sarà il pontificale di sua eminenza, il Cardinal Giovanni Battista Re, che ci fa onore alla sua presenza. La celebrazione sarà accompagnata dal trio Voci dell'Anima e di Dio, di Leslie Abbadini, che è la voce, Agata Borgato, il violino, e Lorenzo Fugazza, la chitarra. E poi alla sera, alle ore 20.45, il concerto del corpo musicale di Erdesio, sempre in ricordo dei 300 anni, sul Sagrato, e sempre con la presenza del Cardinal Giovanni Battista Re. Poi, tutta la settimana, alla sera, alle 20, sono invitati i sacerdoti legati alla comunità di Bani. Alle 20, la messa lunedì, Don Angelo Domenghini, che è prevosto di Grubello del Monte. Martedì sarà Don Lorenzo Test, educatore nelle medie del nostro seminario. Mercoledì 3 agosto, Monsignor Gianni Carzaniga, prevosto di Sant'Alessandro in Colonna, nel ricordo di Don Giuseppe Cristoncelli, che è stato il primo parroco di Bani, originario di Sant'Alessandro. Giovedì 4 agosto, sarà Don Mauro Arizzi, prevosto di Stezzano. Ecco così, il sabato e la domenica, sabato 6 agosto e domenica 7, ci sarà la mostra di oggetti e paramenti liturgici e la possibilità di far visita alla nostra piccola ma bella chiesa. Poi, la settimana dal lunedì di 8 agosto, sarà presente la Scuola Vocazioni Giovanili, saranno loro ad animare queste giornate, quindi ci sarà la presenza martedì 9 agosto, la messa presieduta alle 18.30 da parte dei sacerdoti novelli, mentre invece il giovedì sarà Don Gianfranco Scandella, vicerettore del Teobiennio e venerdì la messa da parte dei paroce curati dei giovani che sono alla ricerca vocazionale. Venerdì sera 12 agosto sarà un momento significativo per la nostra piccola comunità perché alle 20.30 ci sarà la presentazione della pubblicazione sulla storia della parrocchia di Bani da parte del dottor Gabriele Medolago, che ringrazio profondamente per questo lavoro di ricerca storica accompagnata sempre dal quartetto Voci dell'Anima e di Dio con la voce di Leslie Abbadini. Così entrare nel vivo delle celebrazioni sarà il sabato, il sabato 13 agosto, ci sarà il mattino alle 10.30 il solenne pontificale presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Merisi che è il vescovo di Lodi. Così ricorderemo anche il 77esimo anniversario della morte di Don Francesco Brignoli accompagnato dal coro iubilati di Ponteranica. Mentre alla sera ci sarà la cena e il momento di festa con lo spettacolo pirotecnico come consuetudine. Domenica 14 agosto la solennità patronale della Madonna della Cintura alle 10.30 la Santa Messa sarà presieduta da Monsignor Pasquale Pezzoli che è il rettore del nostro seminario di Bergamo accompagnata dalla corale Madonna Derbia di Casdigo. Alla sera alle 18 la Santa Messa sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Lino Belotti così alla sera alle 20.30 i Vespi Solenni sempre presieduti da Monsignor Lino Belotti vescovo usiliare emerito di Bergamo e la solenne processione accompagnata dal corpo musicale di Casdigo.